Vediamo come fare la ricerca avanzata. La ricerca avanzata presenta diversi campi di ricerca e gli operatori booleani. Usiamo questa ricerca per fare ricerche complesse, quando abbiamo dei sinonimi da inserire. Cerchiamo ad esempio il disturbo post-traumatico come conseguenza dell'avere avuto un tumore da bambini. Non è necessario scrivere post-traumatic disorder, visto che la banca dati è interamente dedicata a questo tema. Nel primo campo scriviamo quindi Children. Nel secondo invece scriviamo Cancer. Accanto a questo campo è già impostato l'operatore OR. Utile per mettere dei sinonimi. Potremmo ad esempio mettere come sinonimo di cancro, quindi di cancer, il termine oncologia o oncologico. In inglese oncology o oncologic. Usiamo il troncamento o asterisco per cercare in una volta sola tutte le parole con la stessa radice. Quindi se noi scriviamo on call asterisco, cercheremo le due parole in una volta sola. Quindi scritto on call asterisco, lanciamo la ricerca cliccando su search. Abbiamo trovato 245 risultati. Grazie.